Come vedete faccio una veloce panoramica, sono da flamingo e finalmente queste unghie distrutte vi lancio. Ragazzi buona domenica a tutti, questa è la nostra posizione da dormita quando Rosy non c'è, poi tra poco vado a giocare a Padre e lui lo devo lasciare a casa, si incazzerà un po', però vabbè. Allora, comunicazione, questa sera sarò a Sport Italia alle ore 23, doppio appuntamento questa settimana, lo so, non mi supporterete più, però ci sono tante belle partite, il ci ha superato in classifica, quindi ci sarà tanto da parlare, questa sera a Taranta Juve, quindi per chi volesse, solito orario 23 a Sport Italia e poi sono un po' impegnato perché devo fare la valigia che domani si parte diciamo per un weekendino posticipato a lunedì e martedì, quindi vi farò sapere, qualcuno di voi sa già la destinazione.